Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio video Oggi faremo una cosa Aspettate un secondo Oggi monteremo un set di Lego Minecraft Un sacchetto Poi come potete vedere altri set di Lego Minecraft Sì sono tutti in quella scatola viola Poi dopo ve li faccio vedere E quindi possiamo iniziare a montare Apriti sesamo Voilà sono un mago Comunque Allora il contenuto Aspettate facciamo un'altra magia Eccolo I pezzi sono questi pochini Ma dai Allora le istruzioni Le istruzioni Oh ma dai Pensavo fosse di meno Allora sono queste Dietro E qua E quindi adesso Io inizio Allora Scusate Allora prima di tutto servono I pezzi di Steve Quindi Questo Pantaloni E la testa dov'è Dov'è la testa di Steve Ecco Si mimetizza Quindi Se non dovessi trovare pezzi State tranquilli Ok bene Adesso serve la pickaxe La sua bellissima pickaxe Se si attocco Se si attocco Mi danno un volo in picco Ce l'abbiamo fatta Quindi Steve è fatto Guardate lo che bello Oltre Steve comunque Sì Quindi questo qua È il mesmo Steve Poi c'è Creeper Quindi mettiamo il bello La testa del Creeper Ok Di due lati Ormai il Creeper Ma non ricordo a memoria Come si monta E poi l'axoloto Che Basta che gli attacchi Una faccina qua Io ho anche il sezzo Degli axolot Non la casa axolot Che uscirà quest'estate Ma Altre robe Eccolo qua Axolottino Allora I personaggi Li abbiamo fatti Li mettiamo Qua E voilà Ok Li abbiamo messi Aspetta Creeper Mettiamolo così Oh Adesso è meglio Ehm Bene E ora dobbiamo iniziare A costruire il set Verrà proprio Quindi Ehm Allora Intanto dobbiamo Mettere questo qua Questo qua Ehm Questo Col buco Insieme un altro col buco Poi mettere uno sopra qua Ehm Poi mettere Questo qua Ehm Metterlo un pochetto In qua Cioè così Ok Perfetto Sì sì Possiamo un veloci No diciamo A costruire Si è un set Da 19 Lo costruisco In 5 minuti Cioè Ehm Cioè In 10 minuti Poi Mettiamo Qua Un pezzo Di dripstone Perché dripstone Questo Acqua e dripstone Le abbiamo messe Ok Poi bisogna mettere Ok Ehm Poi dobbiamo mettere Questo qua Questo Qua Ok Questa è la parte più difficile E Questo Qua Poi Questo qua Ecco Questa qui è bellissima Di parte Troppo soddisfying Oh Sapete che la potrei unire Alla minea del creeper Quasi quasi Cioè La minea del creeper E' bella con questo set Ah Ecco Ah E' una stalagmite Mi sembra che Le stalagmite Ah no Le stalagmite Verso terra Le stalattite Verso l'olto Quindi Si Dovrei Dovrei in teoria Ah no Aspetta Ho sbagliato No Aspettate Bene Dopo questo epic fail Oddio Allora Dopo questo epic fail Mettiamo qua Questo Poi mettiamo Qua Questo si E' Questo Un Coso E' qua Sembra quasi un altare Cioè Ditemi se non è un altare Allora Aspettate Ok Bene Dovevo rispondere a un messaggio Ehm Ok Adesso dovrei Dopo aver fatto Ah Dovrei fare un altro di questi Quindi Stara Questa è una stalagmite Si Non strago Mettiamola così però Oh Dai carina Carino sto Mini set Allora E poi Mettiamo Per fare il blocco di diamante Io mi ricordo che i primi blocchi di minerali Madonna Avevano tre strati Oppure li mettevi totalmente a caso Invece adesso L'hanno messo solo due strati Chissà perché L'hanno cambiato Ok Ok Mettiamo qua E quindi In teoria Se io spingo Questo Stivato per sfortuna Allora Ok I pezzi di ricambio Sono questi Aspetta c'è anche questa Che è anche questo Cinque pezzi di ricambio E li mettiamo Qua A breve Uscirà anche una stop motion Cioè Cioè Io Sapmi conoscete Che Faccio Rove Qua ci mettiamo L'axolot L'axolot E' qua Steve Che Mettiamo qua Che cammina Ok Eccolo qua Vi faccio fare un giretto E ricapitolando Il creeper Fa Fa Boom Eh si Creeper Mi dispiace E' fatto una brutta fine Quindi Io direi che Per questo video E' tutto Spero vi sia piaciuto Creeper sta in piedi E Lasciate like E iscrivetevi al canale E Adesso poi usciranno anche altri video E Ciao Ciao